Questo è il fronte di frana da cui è partito tutto nel 2016 e da cui abbiamo iniziato a ragionare di progettualità e di interventi che servono per mettere in sicurezza un fronte di frana veramente importante. Oggi un sopralluogo per vedere la situazione, per vedere a che punto sono i tecnici incaricati e anche per darci dei tempi. Io credo che il 2020 debba essere un traguardo dei primi interventi per la messa in sicurezza di questo territorio. È un territorio che a valle oggi con un'alerta rossa subisce delle evacuazioni forzate a carico dei cittadini e quindi è un territorio che va assolutamente con una priorità di difesa del suolo importante da parte di regione perché purtroppo sappiamo, abbiamo visto nel 2016 quanto è stato impattante il fronte di frana che si è staccato, è diventata quasi una colata che è arrivata a valle e tutto quello che è accaduto, purtroppo questo materiale che ancora si accumula sul versante può purtroppo riversarsi in caso di piogge abbondanti e forti di nuovo con la stessa forza e con lo stesso impatto che abbiamo avuto nel 2016. Io credo che dovremmo individuare alcune priorità e con cui stiamo discutendo con il sindaco, con l'amministrazione e con i tecnici. Ci sono fiducioso che il 2020 possa essere l'anno della partenza dei primi interventi prioritari. Qui a Lavina per fare un sopralluogo insieme al collega Gian Pedrone e i tecnici della regione Liguria. La zona alle mie spalle, come potete vedere, è una zona incredibile dove è partito tutto nel 2016 quando c'è stata questa frana e con tutti i danni e le scene drammatiche che ricordiamo di quel periodo. La regione Liguria è qua per fare il punto della situazione insieme ai tecnici, insieme al sindaco di Renzo Renato Adorno. Il discorso è che abbiamo già dato un importante finanziamento per lo studio e per la prima messa in sicurezza. Certamente quanto è accaduto qua nel 2016 è di rilevanza particolare. Anche i geologi hanno fatto un'analisi che indica alcune strade che possono essere seguite. Stiamo valutando, ma sicuramente al più presto verranno fatti ulteriori finanziamenti per fare in modo che quantomeno si possa tamponare quante è accadute e quello che è successo con questa frana. A detta dei tecnici è uno dei pochi casi, forse l'unico così grave, così importante, avvenuto in Liguria. Quindi è importante un finanziamento sicuramente rilevante, ma siamo qua proprio sul posto per dare risposta al territorio. Una prima risposta è già stata data con un primo finanziamento che ha ricevuto il Comune di Rezzo. Ora, adesso che siamo qua con i tecnici, faremo un quadro ancora più preciso di quanto si è già fatto per mettere in sicurezza e degli ulteriori passi e degli ulteriori finanziamenti che serviranno. Sì, oggi è una giornata molto importante per il Comune di Rezzo. Siamo proprio sul corpo della frana, dove nel 2016 abbiamo avuto l'alluvione che poi è stata trasmessa da tutte le testate giornalistiche. e siamo qua per valutare come riuscire a fermare a Monte alla frana e valutare tutti gli interventi che sono da fare. Noi abbiamo, grazie sempre alla Regione Liguria, già fatto un progetto preliminare che in questi giorni sarà approvato e successivamente dobbiamo valutare per avere, spero, i primi fondi per mettere veramente la parola fine a questo evento. Grazie.